Carla Signoris, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a te. Leone nel Basilico, nuovo film di Leone Pompuzzi, dove interpreta accanto a Ida di Benedetto, lei interpreta Clara, che praticamente è sua nuora. Sono la nuora, esattamente. Una nuora un po' particolare. E abbiamo proprio il caratteristico rapporto nuora-suocera. Cioè il primo impatto che ho io con Ida nel film è subito una bella litigata. Insomma, si contendono entrambe lo stesso uomo, che è il figlio di Maria Celeste, la protagonista del film, e il marito mio, interpretato da Augusto Fornari, che è un bravissimo attore. Molto bravo. Sì. Allora, poi a un certo punto arriva questo bambino, che è un bambino, che sconvolge la vita, naturalmente, di Maria Celeste, ma che la sconvolge in qualche modo, perché lei all'inizio lo rifiuta. Sì, perché, vabbè, intanto la storia è la storia di questa donna, Maria Celeste, che è una donna burbera, orgogliosa, scostante, quasi antipatica, inizialmente. È una donna sola, fondamentalmente. Vive in una casa di cura che si ostina a chiamare albergo, perché non vuole riconoscere questa sua solitudine. Maria Celeste è un viaggio, è il viaggio che fa questa donna, non più giovanissima, quando improvvisamente si trova in braccio un bambino di dieci mesi, che le ha affidato una ragazza sbandata e sola, tanto quanto lei. Questa ragazza, che è Catrinelle Marlon, bellissima, bellissima. Io a vederla è una roba che veramente riempie lo schermo. Questa ragazza fa la vita, è veramente disordinata. Le lascia il bambino mentre lei va a battere e ha un incidente. Quindi questa donna sola, che in questa domenica pomeriggio d'estate racconta alle sue compagne di casa di cura, che va dal figlio a preparargli da mangiare e invece passa la domenica sempre da sola su una panchina, si ritroverà attraverso questo bimbo a recuperare se stessa, a capire che cos'è l'amore, a dargli l'amore che non riesce a manifestare, l'emozione che non riesce a manifestare invece con gli altri. Questo però è quello che accade a Maria Celeste. Sì, sono andata fuori tema, io vedo sempre fuori tema. Anche al liceo, sempre. Bello ma fuori tema. La sua opinione sul film, è certo, è sulla storia. Però volevo sapere un attimo per Clara, quindi per il suo personaggio, che cos'è questo bambino. Perché anche Clara in qualche modo cambia. All'inizio non lo vuole, poi fa questo. All'inizio non lo vuole, sì. Perché è come quasi che Clara volesse mettere alla prova, perché per Clara il marito è già il bambino. Le due donne si contendono un bambino, non il maschio o il figlio. Si contendono... E' questo che poi il tuo marito le dice, non voglio quel bambino perché poi amerai un bambino di me. Esatto, che è un po' una cosa anche, se vogliamo, negli stereotipi rapporti uomo-donna, spesso si dice che i mariti sono sempre un po' figli, un po' bisognosi sempre di amore materno e di attenzioni totali. E sì, Clara che non vuole il bambino perché comunque loro hanno una vita che ormai ha un equilibrio suo. E soprattutto nei confronti della suocera, qualsiasi cosa venga da lei viene rifiutata inizialmente. E poi però tant'è avere un bambino di dieci mesi in braccio evidentemente ha un effetto forte, emozionante. Poi non raccontiamo la fine. Non raccontiamo la fine, però io credo... Questo è, sì lo voglio dire, il film di Natale, il vero film di Natale di quest'anno, con tanto di bambinello. Una curiosità però, proprio su questa battuta che fa il marito a Clara, no? Suo marito, Maurizio Bossa, quando... Lui è bambinello. Sì, bambinone, ma ha mai detto, le ha mai detto una cosa del genere? No, amerei più loro. No, no. No, è stato un rapporto equilibrato. Cosa le è piaciuto di questo film? Innanzitutto la sceneggiatura. Inizialmente ho detto sì perché era una sceneggiatura bellissima, molto immaginifica, molto emozionante, molto onirica. E poi conoscendo il lavoro di Leone Pompucci, del quale forse Camerieri è uno dei miei film, così puntati con la puntina, lì nel memorandum. E mi piace sempre molto la sua visione delle cose, è sempre anche molto cruda, non sono mai personaggi completamente buoni o completamente cattivi. Sono spesso fastidiosi e questo fastidio è interessante. È la vita, no? È la vita, è la vita, siamo tutti così. Grazie Carla. Grazie a te. Ciao.